Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo I doni di ognuno. Spero che la condividerete sui vostri contatti Whatsapp. Considerazioni sulla poesia. Ho creato questa poesia dal titolo I doni di ognuno perché ogni persona ha delle risorse nel proprio cuore, delle risorse grandiose e degne di essere ricercate con fervure, perché ogni persona ha dei doni nel cuore e nell'anima e non se ne rende nemmeno conto. Se ne accorge per caso quando si trova a fare una determinata azione e gli riesce molto bene perché si accorge di avere un dono innato che ha scoperto dopo tanto tempo e che non sapeva di avere. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo I doni di ognuno. Ogni persona ha risorse nascoste nel proprio cuore, risorse grandiose e degne di essere ricercate con fervure. Ogni uomo è una risorsa e ha in sé doti grandiose e se saprebbe ricavare la risposta le saprebbe far emergere e mostrare. Ognuno è una miniera di grandiosa positività e se riesce a capire la propria dote tanto al mondo donerà. I doni di ognuno sono sublimi e se scoperti darebbero certi risultati sbalorditivi che gli stessi uomini stupirebbero. Grazie, spero la condividerete sui vostri contatti Whatsapp. Arrivederci.